Sì, non lo so, ci mi sono rito. Sì, già stai stai, vai a bannino. Eh, chi se vuoi? Mi c'è anche più cartone, potessi fare un pallone. Arroppo però. Mi sono arrivato qui, ma quando passavano l'anno. Sì, se mi sono andato. Allora, io non ci sono. Il gruppo è il gruppo San che mi arriva. Le villane, le stanno andando, attenzione. Svevo il gruppo colto che sta arrivando. Spera che io riuscivo a fare. Spera che io riuscivo a fare. Spera che io riuscivo a fare.